Si parla di età libera e l'età libera per questa amministrazione è un'età indipendente e autonoma e ovviamente l'età libera significa poter usufruire delle proprie conoscenze per poter essere indipendenti e creare il proprio percorso digitale. Dopo i nonni digitali arriva un'altra iniziativa per la terza età, un corso di formazione digitale organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con il CUPLA, il coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo. La finalità è quella di accompagnare nella transizione digitale gli anziani che vogliono approcciarsi al mondo informatico che li circonda in maniera più consapevole e utile. È la prima delle tre giornate di formazione che fa parte di questo nuovo progetto che abbiamo chiamato Ambasciatori Digitali. Questa volta abbiamo alzato l'asticella perché oltre che ad insegnare tutto quello che è più immediato, più facile, più quotidiano di tutto quello che riguarda la transizione digitale abbiamo anche l'ambizione di credere che questi ambasciatori portino tutto quello che hanno imparato anche ai propri associati ovviamente in maniera del tutto gratuita e volontaria. A far parte del CUPLA sono otto associazioni nazionali dei pensionati, il corso di formazione digitale è riservato ad alcuni dei loro rappresentanti ed è organizzato in tre appuntamenti, ognuno dei quali dedicato ad un tema specifico. Questo comporterà che cosa? Per noi anziani diciamo un percorso meno burocratico che dobbiamo imparare noi e il prossimo futuro, chi verrà dopo di noi per iniziare un percorso diverso per avere quelle notizie necessarie per stare a casa e non andare sempre in qualche modo negli uffici burocratici.